l'uso costa parecchio eccolo mamma mia roberto carlos mamma mia roberto carlos devastante devastante mamma mia roberto carlos devastante zio fester se ci pensi non ha avuto manco una versione è un'altra di quelle cap anche paresi come ho detto prima paresi non ha avuto questa versione anche ierro ierro pure mica ieri ha avuto versioni speciali ragazzi ieri a parte la baby la vita e la prime non c'è niente anche anche ierro quindi ucce urge anche i versi di ierro che poi ragazzi mo vabbè diciamo così diciamo se pensiamo a ierro ci viene in mente una bella busta esotica magari potrebbero farlo anche forte dai vieni lo faranno toz dai sicuramente si vieni toz anche perché per come giocava anche in serie house lo merita anche il toz ci potrebbe ci potrebbe anche stare effettivamente io dico che le altre versioni esco con i toz e no zidane ma è uscito titans ragazzi adesso adesso quindi non credo è difficile anche il ronaldino per esempio è uscito tutti però magari chi lo sa mai dire mai mai dire mai magari e dopo faccio tipo la presa faccio tipo la presa sì il baggio presa quella dei mondiali ragazzi la world cup raul la prende con i titans settimo 2 già lincato raul anche crespo si la presa ehi valdanito pure tozzo sarebbe stato bello il valdanito eh il valdanito comunque il drop rate ragazzi è un po stings eh ragazzi il drop rate mezzo mezzo eh mezzo da pick vedremo il drop rate di questi super pick usciti oggi come on let's go vai vediamo che troviamo ragazzi sono tantissimi pick vediamo se troppo quando ragazzi comunque da questo picco ti ho trovato questi qua senti secondo me i pick sono la cosa migliore perché comunque fai conto che con i pick hai la possibilità di andare a trovare i doppioni i doppioni lasci la li parcheggi un attimo e comunque ti vai a farmare nel frattempo spc quindi secondo me sono mille x rispetto i pacchetti quindi tanta direi tanta ma tanta roba ragazzi mille x ciao campari come faccio dire i toz butte scadito toz ragazzi usate il comando e già bello pronto ebbe già bello apparecchiato assolutamente luca ci mancherebbe ci mancherebbe terzi pacchi per i toz conviene no perché toz te li regaleranno cioè regaleranno no però chiaramente terzi pacchetti per i toz secondo me è un po sbagliato nel senso che comunque ti privi del gioco privi di aprire e comunque fai conto che i toz li troverai comunque i pick della vl li troverai un po ovunque capito cioè qual è il discorso è quello è quello il discorso fondamentalmente quindi se a me no se a me non ti conviene non ti conviene proprio back in vai verratti mi dico verratti becca per seconda punta ci oppure fernando torres secondo me sì luca secondo me sì secondo me lucchino sì per tong insule 85 a dopo nico a dopo bello mio a dopo putte scattivo insta guarda la bio matti guarda la bio bomberone grazie mille paolo gentilissimo grazie mille campari gentilissimo vabbè bear cup oddio ci posso anche mezzo stare direi ragazzi cinquanta pic sono sono cinquanta pic per votare i tozze dovete fare putte scattivo tozze mi raccomando ragazzi molto molto easy secondo me ragazzi te lo picchi non so quanti voi l'avete fatto hanno fatto già questi picca non so che ne pensate potrebbero anche mezzo lo picchiare comunque ragazzi c'è vedi comunque qualche qualcosa lo troviamo molti 84 anche e hai visto matti e visto fammi sapere putte scattivo insta eccolo qui ma tipo su tutto eccolo allora pronunciato bene ci sta l'arma in queste picche buono beh buono ragazzi buono per l'aicon la voglia quella un baby si ottimo e anche del piero comunque ecco cosa uscito questi questi picche qua e anche piress ferdian 9 ferdian ragazzi di devasto ferdian nel devasto tale secondo me vabbè fabia scattato e ben a serra anche si dovete fare putte scattivo tozze se non vai il link ve lo metto qua in chat aspetta eccolo qui eccolo qua il linketto eccolo qui il linketto cliccateci e si quote vado vedi che figata cioè io ho visto una pratica di zielischi ragazzi cinque stelle skill e cinque stelle pedevole se dove su uscire quel zielischi tozze ragazzi vi dico cioè fermatevi proprio eh fermatevi proprio mamma mia fermatevi proprio grande mati io voglio mati tozze voglio tipo mati benti prime sbc prime non è male è una buona mezzala un bocci c una buona mezzala e chi incontra troppo del pirato del frantone è ottimo direi ma ne flash a due pure il pirato esterno ma ne lasciamo di non ti sbloccare il pirato inutile ormai ragazzi stanno arrivando anche i tozze inutile boys è inutile sbloccarsi quelle carte ragazzi credetemi ormai non ha senso e si infatti luca anche poi ma ne ormai c'è la squadra della si è anche ben costruita capito meret meret non sta nelle votazioni ve lo metteranno come tozza la siria magari meret ragazzi il napoli come tozza almeno almeno se i giocatori fai conto che li mettono al napoli insomma eh si si sente play sicuro se mi ragazzi mille bentornato gentilissimo donovan pure non è un brutto giocatore ci può stare anche donovan non c'è ci può stare non è brutto player assolutamente però calcolate sempre comunque sono tutte carte che che dovete utilizzare per i miei ma non sono giocatori competitivi non sono carte competitive comunque meret ma pure potrebbero mettere anche il buon occhio a chess nega la juventus e partner occhio ragazzi davvero no virata l'icon non ci posso credere ma davvero davvero il prime di vera è trovato mamma che figata pensare che muo venerdì c'è anche il titans venerdì ragazzi il renouve sicuramente io penso che il renouve lo vediamo direttamente con i toz si lo metteranno con i tozza la siria vedrete allora calcolate che i tozza mancano i tozza mancano il icon che non ci sono uscite barisi ronaldo chi è che manca più ragazzi carincio non è uscito e chi è che manca il bè chi è che manca è bella domanda se il napoli vabbè il napoli vince sicuramente lo scudetto ragazzi ma ci siamo non è che dici ormai le giolte partite basta bomber ciao bello come stai cucciolo veron yash no yashin yashin manca veron non è già uscito veron ha preso la carta foot body veron carincio è uscito mondiale i share vieni manca bravo proprio vieni bravissimo bravissimo scolza anche scolza e anche scolza ma cato se esce vieni impazzisco ragazzi se esce vieni vieni potrei davvero impazzire ragazzi grazie